Siamo particolarmente orgogliosi di cominciare il percorso verso il Siciliano Film Fest 2014 accogliendo il film di Van Sant. Non dico veramente altro, il film parla da sé e quindi lascerò la parola allo solo... Per me la vera anteprima è qui stasera perché voi tutti più o meno avete partecipato a questo film questa serata al Teatro Garibaldi, è stata tutta un'avventura per tre anni e soprattutto questo film che ho montato ho fatto il visaggio anche a Parigi, però prima che alla sua vita di film nel circuito volevo mostrarvi il risultato di questo lavoro devo dire che questo film è nato dall'incontro con la Sicilia, con Palermo ma anche con l'arte dei pupi veramente questo... parlevi di questo incontro tra l'arcaico, l'ontico e il moderno e penso che in questo mondo dei pupi c'è questo incontro che è molto importante che ho intentato dare una forma a questo incontro nel film Grazie a tutti! Grazie a tutti!